Mattinata di passione per automobilisti, ciclisti e anche per qualche pedone in Viale Margherita a Vicenza. La causa? La chiusura della strada per consentire al cantiere l'installazione della passerella ciclopedonale su Ponte Margherita, cantiere che però già nel pomeriggio è stato definitivamente riaperto alla viabilità, code che ad ogni modo erano state ampiamente preventivate. Meno anche di quanto avevamo previsto, per fortuna. Sì, ci sono stati alcuni disagi che avevamo preventivato perché chiudere un ponte non è una cosa semplice. È il secondo fine settimana di chiusura della viabilità in questa zona già di per sé molto trafficata. Quello scorso serviva per la posa di una condotta, una scelta ponderata, quella dell'assessore alle infrastrutture. È stato un grosso sacrificio realmente fatto, però è un sacrificio che permetterà di fare le festività tranquillamente, potendo usufruire il ponte nella sua completezza perché dopo metà dicembre sarà completamente libero.